La Gevi Napoli Basket ha sicuramente cambiato marcia da quando il 12 dicembre scorso è stato ufficializzato il tesseramento di Martino Mastellari da Montegranaro. La guardia bolognese classe 96 con la Sutor ha disputato una buona prima parte di stagione con 10.6 punti e quasi due assist in 19 minuti di media. Con la nuova maglia Mastellari ha fatto il suo esordio contro l'Eurobasket Roma dando nuova linfa alla panchina azzurra. Prima dell'arrivo di Mastellari dalla panchina azzurra si alzavano 14.1 punti di media distribuiti tra i poco più di 7 di Spizzichini in 23 minuti, i quasi 3 di Capitano Guarino in 14 minuti sul parquet e i 2 di Milani e Dincic in rispettivamente 12 e 9 minuti di utilizzo. Coach Sacripanti ha più volte fatto presente il problema panchina, ovvero la necessità di trovare più punti dagli uomini chiamati a dare il cambio ai titolari partenopei. Il miglioramento è stato evidente. Nelle ultime quattro partite i partenopei hanno portato a casa ben due vittorie. I punti dalla panchina sono aumentati a quasi 18. Quasi tutti i membri appunto della panchina hanno visto alzare il proprio bottino di minuti e punti, tranne per Milani. Gli ottimi exploit di Spizzichini contro Rieti, autore di 11 punti, e di Guarino contro Latina, autore di 14 e un bel 19 di valutazione, testimoniano la bontà del lavoro fatto in palestra. Il maggior apporto dalla panchina ha permesso a Coach Sacripanti di poter attutire nel miglior modo possibile una flessione di Roderick, dovuta anche ad alcuni problemi fisici, che lo hanno portato vicino al forfè in un paio di occasioni. Napoli è ancora vigile sul mercato nella ricerca affannusa di un lungo da affiancare a Brandon Sherrod e Stefano Spizzichini. Le novità più interessanti riguardano Antonio Ghiannuzzi. Il lungo campano, in forza all'epica Sabrindisi, ormai fatto sapere da settimane la propria volontà di vogliere cambiare aria, ma la società pugliese non vuole rinunciare ad un cospicuo buyout. Oltre alla già citata Napoli, sul giocatore è forte Capodorlando, ma soltanto nel caso in cui i siciliani lasciano partire Bryce Johnson, incassando un'ingente somma da reinvestire sul mercato. Se volete continuare a rimanere aggiornati sul mondo JP Napoli Basket non dovete fare altro che iscrivervi al canale. Grazie. Grazie a tutti.